Il Festival Filosofia 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 che uccidono l'animale per farne una merce, i macellai che ne spartiscono il corpo, i cuochi che lo preparano al pasto, gli stessi medici attenti all'alimentazione in vista di una dieta salutare. Tutti costoro sviluppano in modo embrionale elementi di un sapere che spezza il rapporto speculare fra uomo e animale, le affinità metaforiche, i transiti psicologici. La loro conoscenza degli animali, che ha in ogni caso finalità pratiche non teoriche, pone gli animali stessi nella posizione degli oggetti da utilizzare, manipolare, sfruttare. Naturalmente questi saperi tecnici non assunsero mai forma scritta, salvo che nel caso dei medici, ma la loro traccia permane ancora negli appunti redatti da Aristotele, che appunto ai professionisti del rapporto con l'animale si rivolse per raccogliere il patrimonio di informazioni necessarie per la costruzione della sua zoologia scientifica. Nelle classificazioni degli animali pre-anatomiche, ispirate dal punto di vista dei cacciatori e dei pescatori, vengono privilegiati gli aspetti etologici che raggruppano gli animali secondo quei comportamenti, come ad esempio l'uso di certi pesci di migrare in branco e quelle condizioni ambientali, la tana, lo scoglio, la cui conoscenza è indispensabile a chi tenta la cattura degli animali. In uno di questi appunti aristotelici, gli animali vengono ad esempio distinti fra quelli che vivono in abitazioni, come la talpa, il topo, la formica, l'ape e gli altri. I secondi, quelli che non vivono in abitazioni, vengono ulteriormente divisi fra quelli che vivono sotto terra, come la lucertola e il serpente, e quelli sopra, come il cavallo e il cane. Ancora, e questo è particolarmente significativo, il gruppo degli animali che vivono in società comprende l'uomo, l'ape, la vespa, la formica, le gru. Tutti questi sono animali politici in senso lato, secondo la definizione di Aristotele, anche se naturalmente l'uomo è l'animale politico in senso forte. La cosa da notare in questi schemi di ordinamento del mondo animale è l'assenza di qualsiasi criterio di ordine morfologico e anatomo-fisiologico. Nello stesso gruppo possono coesistere mammiferi, rettili, insetti, cosa che per noi, cioè dopo Aristotele, è diventata del tutto impensabile. Nell'ambito della medicina del V secolo, la medicina che noi chiamiamo ipocratica, dal suo rappresentante più emblematico, più celebre, ipocrate appunto, non si sviluppa invece, anche se questo può sembrare sorprendente, alcuna forma di conoscenza anatomica del corpo umano. Il medico ipocratico studia i fenomeni patologici a partire dagli elementi in ingresso nel corpo, cibi, bevande, aria, ispirata, e da quelli in uscita, urine, escrementi, catarri, sangue. Ma all'interno del corpo resta una sorta di scatola nera, cui il medico ipocratico non ha accesso e intorno alla quale non sviluppa conoscenze, neppure a partire dalla comparazione con gli organi degli animali, che pure sarebbe stata possibile, anche prima dell'avvento dell'anotomia scientifica, grazie all'osservazione di quelli esposti nelle botteghe dei macellai. Anche questa esperienza, di cui i medici non si erano giovati, avrebbe invece contribuito alla formazione del grande edificio scientifico del nostro filosofo. Aristotele aveva infatti progettato la costruzione di un sapere enciclopedico sulla natura, nel quale naturalmente la conoscenza degli animali aveva un ruolo centrale. Questo progetto lo avvicinava molto di più agli specialisti dell'animale e oggetto, pescatori, allevatori e macellai, che all'immaginario dei poeti e dei vecchi sapienti, nel quale l'anima dell'uomo si specchiava nel suo riflesso animale. Aristotele frequentava dunque i banchi dei pescatori, soprattutto durante il suo soggiorno a Mitilene. Da essi apprendeva notizie sui modi di vita degli animali marini, per esempio sull'intelligenza dei polipi, sui loro modi di riproduzione, come ad esempio la notizia che le femmine di squalo partorivano piccoli vivi anziché uova come gli altri pesci, sulla loro struttura interna, ad esempio sulla singolare simmetria pentamera anziché bilaterale del riccio di mare. Ed era altrettanto assiduo delle botteghe dei macellai. Qui potevo osservare gli organi interni degli animali, come i polmoni, il cuore, il fegato, i reni, derivandone tra l'altro, cosa che i medici non avevano fatto, preziose conoscenze anche sull'organismo umano. Se dunque il grande filosofo, in modo del tutto inconsueto per i suoi successori nella tradizione filosofica occidentale, era per questo aspetto molto vicino agli umili operatori del porto e del mercato, Egli se ne differenziava poi per una ragione decisiva. L'interesse di tutti i costoro era esclusivamente pratico. Lamentava Aristotele. Nessun pescatore osserva alcun fatto per amore della conoscenza. Mentre la sua attenzione per la vita e il corpo dell'animale aveva fini esclusivamente teorici. Appunto la costruzione di un sapere finalmente e davvero scientifico sulla natura. La conoscenza scientifica dell'animale esigeva, infatti, secondo Aristotele, procedure specifiche e del tutto diverse da quelle dei pescatori e dei macellai. C'è un passo nel trattato zoologico del filosofo che ha un significato davvero epocale. Si tratta di un'importante questione, il percorso delle vene nel corpo umano e animale, che aveva interessato da tempo naturalisti e studiosi di medicina senza che si giungesse ad alcuna conclusione soddisfacente. Vi leggo le memorabili parole di Aristotele. La causa di questa ignoranza sulle vene risiede nella difficoltà di compiere osservazioni su queste parti. Negli animali morti, infatti, la natura delle vene principali non è evidente, perché sono soprattutto esse a cedere non appena ne sia uscito il sangue. Negli animali vivi, poi, è impossibile osservare l'assetto delle vene, perché esse sono naturalmente poste all'interno. Sicché coloro che hanno condotto le osservazioni su animali morti e macellati non hanno visto le origini delle vene maggiori, mentre coloro, si intende i medici, che le hanno compiute su uomini estremamente dimagriti hanno individuate le origini delle vene sulla base di quanto appariva esternamente. Invece è possibile raccogliere adeguate informazioni se si ha un interesse scientifico per questi problemi solo sugli animali strangolati dopo averli fatti dimagrire. Strangolati si intende per non fare uscire immediatamente il sangue, cosa che il taglio del macellaio produce, e poi opportunamente aperti mediante la dissezione per osservare, appunto, in questo caso le vene e, in generale, gli organi interni che sono invisibili dall'esterno. È un fatto decisivo. Nella storia della cultura europea si tratta senza dubbio della prima volta che l'uccisione dell'animale viene prescritta e praticata non a scopi pratici, la caccia alle fiere e l'uso alimentare, ma a scopi puramente conoscitivi, in funzione della pura teoria, come diceva Aristotele. Di qui in poi, il corpo dell'animale si trasferisce dalle botteghe dei pescatori e dei macellai al tavolo da dissezione del filosofo scienziato. E di qui in poi, il coltello inizia il suo lavoro scientifico. Una lunga carriera che culminerà sei secoli dopo Aristotele, con il medico e filosofo galeno vissuto a Roma nel secondo secolo dopo Cristo, che faceva della vivisazione degli animali un vero e proprio spettacolo scientifico destinato alle personalità intellettuali e politiche della società imperiale romana. Per dimostrare, ad esempio, che la voce proveniva dal cervello attraverso gli speciali nervi della fonazione, galeno eseguiva la vivisazione dell'animale, un capretto o un maialino, che urlava finché stringendo quei nervi con un filo di lino improvvisamente si ammutoliva, suscitando lo stupore degli astanti. Ma torniamo ad Aristotele e al lavoro scientifico del suo coltello anatomico. Grazie alla dissezione, l'organismo animale diventava per la prima volta un libro aperto che rivela i suoi segreti al filosofo scienziato. Questi scopri la struttura degli organi interni dei diversi animali, dal cervello ai polmoni, dal cuore al fegato, dagli organi della nutrizione e della locomozione a quelli riproduttivi. Il corpo degli animali, una volta uccisi e aperti ai fili della conoscenza, si rivela come una struttura integrata meravigliosamente adatta a svolgere le sue funzioni vitali. Notate questa contraddizione che sarà poi su quella la quale tornerò. Per comprendere la vita è necessario passare attraverso il cadavere. C'è questo rapporto paradossale che l'anatomia istituisce tra la vita e l'uccisione. Ogni organo è destinato a una precisa funzione. Questa funzione spiega la struttura dell'organo e a sua volta questa struttura è leggibile come un dispositivo di precisione per l'adempimento del suo compito nell'ambito dell'organismo. Laddove lo sguardo profano non vede che è un ammasso di carni, di ossa e di sangue, e mentre il filosofo platonico preferisce alzare il suo sguardo verso la perfezione delle orbite celesti, Aristotele sa leggere la perfezione della natura nell'impeccabile adattamento di ogni organismo animale al suo ambiente e alle sue esigenze vitali. Egli scrive con tono di entusiasmo di fronte al nuovo orizzonte di sapere dischiuso dal coltello anatomico e questo è il passo reso celebre dalla maturità, dal testo greco della maturità di quest'anno. Perfino circa quegli esseri che non presentano attrattive sensibili, tuttavia, a livello dell'osservazione scientifica, la natura che li ha affoggiati offre grandissime gioie a chi sappia comprendere le cause, cioè sia autenticamente filosofo. Non si deve dunque nutrire un infantile disgusto verso lo studio dei viventi più umili. Ci sono naturalmente nella pionieristica anatomofisiologia di Aristotele errori che i suoi successori, muovendosi nel solco da lui aperto, avrebbero corretto. Per esempio, il mancato riconoscimento della connessione del cervello con il sistema nervoso centrale e quindi l'attribuzione al cuore e non al cervello stesso delle funzioni cognitive e percettive. Ma ci sono altrettanto grandi successi. In primo luogo, a livello della comparazione anatomofisiologica. Per esempio, comparando le branchie dei pesci ai polmoni dei mammiferi, Aristotele comprese la funzione respiratoria delle prime. In secondo luogo, a livello della classificazione degli animali. Osservando ad esempio la struttura degli organi della riproduzione, egli giunse alla scoperta che non tutti gli animali che vivono nel mare possono venire considerati pesci come fanno i pescatori ignoranti. Così, in base alla presenza dell'utero, egli classificò i cetacei e i delfini fra i mammiferi e non fra i pesci. Un chiarissimo esempio questo di come la classificazione a base anatomica soppiantò con Aristotele e fino ad oggi i raggruppamenti degli animali su base ambientale che venivano operati dai pescatori e finivano per raggiungere come abbiamo visto anche le opere dei filosofi. Se prima fra gli animali acquatici venivano collocati tanto i pesci quanto i castori tanto le anatre quanto le misce d'acqua ora il coltello classificatore dell'anatomista colloca gli uni tra i mammiferi le seconde tra gli uccelli e le altre fra i rettili in base alla considerazione congiunta dei loro sistemi riproduttivi respiratori e locomotori. Certo su questo tonnerò qualcosa andava perduto la comprensione dell'ambiente naturale nella sua complessità di ecosistema ma la razionalità classificatoria a base anatomica non esitava per questo a procedere nella sua rivoluzione conoscitiva. accanto ai tracciati del coltello anatomico anche lo stilo scrittorio veniva compiendo il suo lavoro trascrivendo cioè l'incisione del corpo animale nei segni sulle tavolette di cera. Le scoperte zoologiche acquisite nell'indagine scientifica venivano trasmesse da Aristotele ai suoi allievi nei suoi corsi di lezioni e questi venivano a loro volta registrati nei grandi trattati come le ricerche sugli animali le parti degli animali la generazione degli animali la scrittura dei trattati dava la definitiva forma di disciplina scientifica alle osservazioni dirette di Aristotele esse risultavano ora esposte ordinatamente e sistematicamente ogni dato osservativo veniva descritto ne venivano discusse le cause cioè le ragioni che spiegano una data struttura anatomica o un dato processo fisiologico e infine veniva inserito in un quadro generale di sapere senza scrittura sarebbe stato impossibile registrare accumulare ordinatamente trasmettere l'enorme quantità di informazioni sulle strutture interna del corpo che il lavoro del coltello anatomico veniva rivelando i trattati da una parte assicurano la trasmissione nel tempo delle discipline zoologiche attraverso la scuola e le predispongono all'integrazione cumulativa delle nuove scoperte che la scienza può effettuare una volta che ne siano stati posti i fondamenti inoltre i trattati assicurano l'integrazione delle discipline nel campo della grande enciclopedia del sapere progettata da Aristotele vediamo il piano complessivo di questa enciclopedia nelle parole iniziali dello scritto sui fenomeni meteorologici scrive Aristotele ricapitolando il percorso del suo lavoro scientifico si è trattato precedentemente delle cause prime della natura e di ogni movimento naturale e questo è uno strattato che si chiama fisica ancora degli astri ordinati nella traslazione superiore e degli elementi corporei e questo è nel trattato che si chiama sul cielo e dei loro reciproci mutamenti infine della generazione e corruzione in generale e questo è nel trattato che si chiama generazione e corruzione rimane ancora da esaminare la parte di questa ricerca che tutti i predecessori chiamavano meteorologia e questo accadrà nel trattato di cui stiamo leggendo la pagina iniziale dopo aver trattato questi fenomeni dovremo esaminare se ci sarà possibile spiegare secondo il metodo già indicato i problemi relativi agli animali e alle piante in generale e in particolare e con questa ricerca si sarà pressoché concluso il programma che ci eravamo assegnati fin dall'inizio non si può leggere questo straordinario progetto scientifico esposto con un'altrettanto straordinaria sobrietà senza provare una certa emozione intellettuale perché ci troviamo di fronte all'atto inaugurale dell'idea di una enciclopedia delle scienze nella tradizione intellettuale europea al tempo stesso non dobbiamo dimenticare che tutto questo non sarebbe stato neppure pensabile senza la scrittura cioè senza il lavoro dello stilo che deposita nelle tavolette di cera le conoscenze che il filosofo scienziato viene accumulando nella sua instancabile ricerca il coltello lo stilo dunque ha le origini della nuova conoscenza anatomica e fisiologica del corpo animale ma la loro efficacia si farà presto sentire fuori dall'ambito della zoologia e trasformerà la stessa conoscenza del corpo umano i medici non potevano infatti ignorare la rivoluzione anatomica operata da Aristotele non potevano più limitarsi a sfruttare i segni della malattia o della salute sul viso del paziente o nei fluidi in uscita dal suo corpo né continuare a considerare questo corpo come una scatola nera del cui interno non si sapeva nulla infatti pochi decenni dopo la comparsa dei trattati aristotelici all'inizio del terzo secolo avanti Cristo i grandi medici anatomisti di Alessandria Erofilo ed Erasistato grazie all'ambiente del museo che favoriva la ricerca scientifica furono messi in grado di praticare la dissezione sui cadaveri umani fino ad allora vietata per motivi religiosi e in certi casi persino anche se questo può sonare raccapricciante la vivisazione umana si trattava in questo caso di criminali condannati a morte che le autorità mettevano a disposizione dei medici perché la loro morte fosse almeno utile alla scienza secondo il filosofo cristiano Tertuliano Erofilo sarebbe stato un medico macellaio che aveva scrive Tertuliano odiato l'uomo per conoscerlo e cioè praticato la messa a morte di centinaia di persone per conoscere la vita questo rapporto paradossale tra vita e morte di cui accennavo prima l'inventivo di Tertuliano non è infondata è però vero che gli anatomisti alessandrini realizzarono progressi nella conoscenza del corpo umano tanto straordinari da essere ancora oggi alla base del nostro sapere anatomico viene individuato il sistema nervoso sensorio e motorio e riconosciuto la sua connessione col cervello vennero scoperti il sistema venoso e arterioso e il loro rapporto con i ventricoli cardiaci fu riconosciuto il valore diagnostico della pulsazione l'ispezione degli scheletri permise una precisa descrizione del sistema osseo e dei suoi rapporti con muscoli tendini e nervi come nel caso della zoologia aristotelica in cui l'incremento delle conoscenze degli organi interni basato sulla distrazione dell'animale morto si accompagnava a un crescente disinteresse per gli aspetti etologici ed ecologici della vita degli animali così anche nella nuova medicina il predominio dell'anotomia scientifica comportava il passaggio in secondo piano di quella capacità di leggere i segni esterni del paziente in carne ed ossa che aveva costituito il patrimonio migliore della tradizionale medicina ipocratica lo sguardo dei medici preanatomici si posava ancora sul singolo individuo sul paziente vivo scrutava i segni leggibili sul suo corpo e nella sua storia clinica l'occhio degli anatomisti Alessandrini era invece rivolto soprattutto agli organi interni visibili solo nel cadavere in cui venivano riconosciute le cause occulte e primarie delle malattie ma fu certamente la rivoluzione anatomica a prevalere Galeno di cui ho già parlato esaltava in questo modo la meravigliosa armonia tra organi e funzioni che l'indagine anatomica sul corpo animale e quello umano metteva in luce la trattazione sull'utilità delle parti cioè sulle strutture anatomofisiologiche diventerà veramente il principio di una rigorosa teologia che è una cosa molto più grande e molto più nobile di tutta la medicina essa sarà utile non solo al medico ma molto più che al medico al filosofo che si sforza di acquisire la conoscenza di tutta la natura a questi misteri io credo devono essere iniziati tutti gli uomini che onorano gli dèi tutte le nazioni e tutti i ceti misteri che non hanno nulla di simile con quelli di Eleusi o Sabotracia misteri razionali misteri che la scienza può rivelare misteri che possono portare alla costruzione attraverso la scienza di una teologia rigorosa e non superstiziosa o mitica per Galeno il rapporto tra la medicina il coltello anatomico e lo stile scrittorio è diventato così stretto così parte integrante del suo sapere che egli non può neppure immaginare che nell'epoca originaria della medicina quella ipocratica questo rapporto non esistesse però deve spiegare come mai i medici ipocratici non abbiano lasciato trattati di anatomia pur non essendo immaginabile che essi non la conoscessero e allora ricorre a un'ipotesi scrive Galeno era allora superfluo al tempo di Ippocrate scrivere trattati di questo genere perché gli allievi apprendevano dai genitori fin dall'infanzia a sezionare così come a leggere e scrivere non c'era motivo di temere che venissero dimenticati i procedimenti di dissezione appresi fin dall'infanzia come l'arte della scrittura quindi secondo Galeno in epoca ipocratica i bambini i figli dei medici apprendevano la dissezione e la scrittura contemporaneamente e questo rendeva inutile la scrittura di trattati cito questo per indicarvi come la connessione tra scrittura e distrazione sia diventata così radicata nella tradizione medica da immaginare che essa appunto appartenga già alla formazione dei bambini Galeno non poteva neppure pensare a un'epoca in cui la medicina e il sapere della natura ne fossero stati privi e anche noi anche a noi sarebbe difficile immaginare una medicina e una zoologia prive di anatomia e una scienza senza trattati anche se possiamo lamentare la perdita di contatto con la vita causata dalla prima e l'irrigidimento dogmatico spesso prodotto dai secondi questo è l'inizio appunto di una lunga storia che giunge fino a noi e la storia come spesso accade ha una sua morale gli strumenti della conoscenza come nel nostro caso il coltello e lo stilo sono al servizio di un progetto scientifico e culturale cioè dei filosofi e degli scienziati che li mettono all'opera è però vero anche che senza questi strumenti il progetto sarebbe impossibile ed è soprattutto vero che gli strumenti conferiscono una forma e una natura particolare ai saperi di cui sono al servizio alle conoscenze che essi producono se sostituiamo l'antico coltello anatomico tutta una famiglia di strumenti dal bisturi chirurgico ai dispositivi elettronici per le analisi cliniche e se sostituiamo allo stilo i potenti computer di cui oggi disponiamo ci rendiamo conto di quanto la nostra scienza dipende dalla natura e dal funzionamento di questi strumenti come i loro antichi progenitori essi hanno reso possibili straordinari progressi nella conoscenza del corpo umano della sua fisiologia e della sua patologia e naturalmente anche del mondo degli animali ma ancora una volta qualcosa è andato perduto la capacità del medico di vedere la persona del suo paziente con la sua storia la sua vita i suoi problemi al di là delle schermate che danno i risultati delle analisi cliniche effettuate e anche la nostra capacità di guardare al mondo degli animali con quella simpatia quella prossimità speculare quella meraviglia incantata che aveva un tempo lo sguardo dei poeti e degli antichi filosofi tornare indietro non è né possibile né augurabile è invece possibile e augurabile essere consapevole degli effetti prodotti dall'intreccio della conoscenza e dei suoi strumenti per conservare i guadagni conquistati senza subire passivamente i costi intellettuali che si hanno comportato grazie per l'attenzione grazie grazie